Una bella doppietta di Bertoni, qualcuno magari a nord dirà che l'Inter aveva la testa a mercoledì, però nessuno scende a sud per perdere in maniera così clamorosa. Partita iniziata con un minuto di raccoglimento, si ricordava Giovanni Lambiase, l'allenatore dei giovani del Napoli, è morto questa settimana. Maradona, settimo minuto, riesce a tirare anche cadendo e sbaglia di poco. Diciassettesimo minuto, Bertoni su punizione, manda il Napoli in vantaggio. Un primo tempo ravvivato soprattutto da questo gol e da quest'altro. Come vedete, su un errore della difesa del Napoli, che troppo si fida, Baresi mette a segno il pareggio. Diciassettesimo, trentanovesimo. Secondo tempo, Maradona, diventa grande Maradona. Il suo corner, battoccato da Bagni, poi da Bertoni, realizza dal fiume. Due a uno per il Napoli. E siamo al quarto minuto del secondo tempo. L'Inter prova questo pareggio con Rummenigge, molto ben guardato da Bruscolotti. Poi riprova con Cucchi, che mette a segno la palla, ma era chiaramente in fuorigioco. E il Napoli riparte. Il Napoli è citatissimo da questa grossa partita, soprattutto nel secondo tempo. Caffarelli lancia Bertoni, testa di Bertoni, e siamo sul 3 a 1. Maradona trova libero ancora l'argentino Bertoni, e Bertoni questa volta non riesce a, come dire, moltiplicarsi. Ancora Maradona, ancora per Caffarelli, che trova ancora Maradona, il quale trova a sua volta le mani del portiere Zenga. E si diverte a suo modo. In sostanza un Napoli che riesce persino a non temere queste bordate. Ancora una volta Rummenigge e ancora una volta Maradona. Molte altre azioni ve le abbiamo risparmiate, perché veramente tempo non potevamo prendervene di più. Dobbiamo dire che se c'è una Napoli che soffre in periferia, quella dello Stadio San Paolo, questa volta ha gioito e con ragione.